Eccoci di nuovo insieme. In un precedente video ti ho detto quali sono le caratteristiche fondamentali dell'ansia sociale e come distinguere il disturbo d'ansia sociale dalla semplice timidezza. Nel video di oggi invece voglio parlarti di cosa c'è all'origine dell'ansia sociale. Rossella è una signora di 40 anni sposata. Si descrive come una donna che ha avuto una vita sociale abbastanza limitata anche se con tanti interessi. Per esempio frequentava una scuola di ballo insieme a delle amiche, faceva del volontariato ed era abbastanza attiva nella classe del figlio. Quando mi chiede una consulenza mi dice che nell'ultimo anno la sua vita è veramente cambiata. Col tempo ha cominciato a provare particolare imbarazzo quando andava a scuola di ballo. Ha rinunciato a quell'attività e pian piano questo imbarazzo ha influenzato anche la sua attività di volontariato. Ha rinunciato anche a fare volontariato. Quando chiede la consulenza mi dice che la sua vita ormai si è veramente limitata a pochissime attività. Prova tantissima ansia quando deve affrontare un'attività sociale, quando deve confrontarsi con gli altri. Per cercare di comprendere cosa è successo nell'ultimo anno chiedo a Rossana di descriirmi cosa sente quando si trova ad affrontare un'attività sociale, quando si trova in mezzo agli altri. Lei mi dice che prova un enorme timore e sente pesantemente lo sguardo altrui. Lo vede come proprio uno sguardo indagatore alla ricerca dei suoi difetti e che la critiano continuamente. Rossana sente che tutti la guardano e la giudicano negativamente per il suo abbigliamento ma anche per il suo carattere. Quando le chiedo che cosa significa per lei questo giudizio, lei mi dice che è una cosa terribile perché sente che gli altri hanno scoperto il suo segreto. La vita e le esperienze di Rossana ci dicono che l'elemento fondamentale che caratterizza l'ansia sociale è l'emozione della vergogna. In un precedente video ti ho spiegato che cos'è la vergogna. Se lo hai perso metto il link in basso nella descrizione così poi lo potrai andare a vedere. Ma torniamo a Rossana e a parlare di come sente pesantemente lo sguardo altrui. Crede che lo sguardo indagatore degli altri vada a scrutare nella sua profondità alla ricerca del segreto. Il segreto di Rossana è quello di essere inadeguata, di non valere. Infatti alla base dell'ansia sociale molto spesso vi è l'idea di essere inadeguati, di essere inaccettabili e di essere persone di non valore. Questo pensiero, questo senso di inadeguatezza viene vissuto come una vergogna da nascondere agli altri. Oltre ad avere un'idea sbagliata di base, cioè quella di essere inadeguati, di non valore, di non essere amabili, molto spesso vi è un secondo livello di convinzione, ovvero quello di tenere nascosto questo senso di inadeguatezza e che se gli altri venissero a scoprire questo segreto sarebbe una cosa terribile. La persona che soffre di ansia sociale ha sempre il timore che questo segreto, il segreto della propria inadeguatezza e del proprio non valore, venga scoperto. Di conseguenza il significato che viene dato all'eventuale critica altrui è un significato terribile, è un significato che investe tutta la personalità. Sintetizzando possiamo dire che alla base di un disturbo d'ansia sociale vi è l'idea di essere inadeguati, di non valere, di essere sbagliati e vi è anche la convinzione di dover tenere nascosto questo terribile segreto. Nel prossimo video ti parlerò di come superare l'ansia sociale, quindi iscriviti al mio canale youtube così non lo perderai. Prima di guardare quel video, come momento di preparazione, ti invito a guardare il video su come superare la paura del giudizio altrui che puoi trovare sempre nella descrizione o sul mio canale. E mi raccomando se il video ti è piaciuto, se l'ho trovato interessante esprimilo con un like e se hai delle domande sono a tua disposizione, scrivile sul mio canale youtube e io ti risponderò.